H.A.L.D.I.N.E.S.A.R.I.M.D. Yahushua 5 motivi per rafforzare la fede in Yahweh In un mondo pieno di dubbi, ritrovare la fede in Yahweh può trasformare la nostra esistenza. Vi presentiamo 5 motivi fondamentali. Il primo motivo è l'amore incondizionato. Yahweh ci ama senza giudizio, offrendoci sempre una nuova opportunità di redenzione e felicità. La seconda ragione riguarda la guida spirituale. Seguire i suoi insegnamenti ci permette di navigare le tempeste della vita con saggezza. Terzo, la fede in Yahweh ci insegna il valore della comunità. Unirci in preghiera e azioni crea legami indissunubili tra noi. Poi, c'è la pace interiore. Nel momento in cui la nostra fede si approfondisce, i tormenti e le ansie si attenuano. Infine, credere in Yahweh ci apre le porte alla speranza. Anche nei momenti bui, sappiamo che un futuro luminoso ci attende. Con questi pensieri nel cuore, invitiamo tutti a riscoprire e rafforzare la propria fede in Yahweh, per un domani di pace e amore. Per sapere come fare, venite nel sito www.attrattinocal.info e cliccate su Contattaci. Shalom